Grazie a tutti. La copertina è truffa, Renzi compra i voti in primo piano, il PD acquista i parlamentari di Monti e completa il golpe di Napolitano, ecco la vera storia del piano partito da lontano per eliminare Berlusconi. Il giornale dunque parla di giochi sporchi in riferimento alle manovre del governo Renzi. E poi sempre in primo piano la foto dell'americana che sarebbe morta nel raid giordano, l'hanno usata come scudo umano. Gli adisti come crociati, così Obama offende la storia. E ancora sempre sulla pagina del giornale si parla dell'altra notizia che riguarda la capitale, in particolare a Roma, città aperta alle prostitute. Marino crea il rione a luci rosse, dunque squillo tollerate all'Eur, Amsterdam è all'Eur, la giunta Marino varerà a Roma, la prima zona a luci rosse d'Italia. In alcune vie sarà tollerata la prostituzione, ma è un pasticcio che non serve a nulla. Così oggi riportato sul giornale la cultura ancora in primo piano, ogni domenica la nostra cultura fuori dal coro. E ancora sempre in primo piano l'articolo riguarda il processo alle agenzie di rating, l'Italia rinuncia a 120 miliardi per la dittatura dello spread. E ancora, falso in bilancio, vera batosta e le piccole imprese scapperanno. Così oggi riporta il quotidiano il giornale in primo piano, adesso ci trasferiamo sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica. Le notizie dall'estero in primo piano con la crisi dell'Ucraina. Putin tratta con Merkel e Hollande, spiragli per l'intesa. Da lungo vertice a Mosca i tre leader si risentiranno domani, il Cremlino con loqui costruttivi si lavora a un testo comune. E poi in basso l'intervista a Mogherini, l'Unione Europea con Parigi e Berlino, non vogliamo dare armi a Kiev. E sempre in primo piano la foto dell'americana che sarebbe stata uccisa dall'Isis. La nostra prigioniera USA, uccisa da Raid della Giordania. Così oggi in primo piano. E poi ancora la politica del governo Renzi, entra scelta civica, polemiche nel Partito Democratico, scontro sulla campagna acquisti di Renzi. E il caso che riguarda, una notizia riportata oggi su quasi tutti i quotidiani, riguarda il quartiere di Roma a luci rosse. Marino fermati, questa è la dichiarazione dei cittadini che ovviamente si oppongono all'istituzione di questi quartieri a luci rosse. E ancora dalla Col di Retti con la protesta degli allevatori, la rivolta del latte, mucche in piazza, sempre più poveri, le stalle chiudono. Così oggi sul quotidiano La Repubblica andiamo a vedere quali sono gli altri argomenti riportati in copertina. Si parla di Gianna Nannini, grazie a mia figlia ho scoperto la tenerezza rock. Poi ancora un'altra notizia riguarda il benessere fedeli al Walnis con moderazione, no all'ossessione della forma fisica. Bene, questi erano i principali argomenti riportati questa mattina sul quotidiano La Repubblica. Ritorniamo sul pagine del garantista in primo piano, la vicenda che arriva da Crotone con il licenziamento di 15 operai per ordine del prefetto. Sono amici dei mafiosi, dunque l'azienda li ha liquidati dopo l'interdittiva del funzionario, la vostra presenza è cagione di gravissimi danni per l'azienda eppure il TAR ne l'aveva annullata per eccesso di potere. Sempre in primo piano l'intervista a tutto campo al Vandaferro, ex presidente della provincia di Catanzaro, è candidata alla presidenza del Consiglio regionale, lei è esclusa dal Consiglio e ora che Forza Italia spieghi a tutti cosa è successo. Una buona notizia che arriva dalla Calabria, riportata oggi sulle pagine del garantista, riguarda l'economia. Una sorpresa, l'economia calabrese riparte, l'export cresce dell'1,2%, secondo uno studio di Unicredit l'export della Calabria è cresciuto dell'1,2%. Dunque, e prosegue il rallentamento del calo di occupazione dopo il minimo del 2013, inoltre sembrano essere ripartiti anche i consumi delle famiglie, così in primo piano. E poi il caso di Majorana è vivo e passeggia per le serre, la leggenda del fisico che sarebbe stato appunto avvistato anche a Serra San Bruno. Ettore Majorana, oggi scrive il garantista, non è ancora morto e se lo incontrassi lo incontrerei tra i boschi delle serre, nella parte più recondita delle Calabria e così oggi riporta il garantista. E andiamo adesso sulla prima pagina del quotidiano del Sud, in primo piano si parla di garanzia giovani, ritardi e sfiducia, riparte il piano da 111 milioni di euro per la formazione di chi non ha mai lavorato. Su 78 mila giovani però solo 17 mila si sono iscritti, ma i fondi sono per 40 mila corsisti. Dunque Calabria indietro rispetto alle altre regioni e il presidente della regione Calabria, Oliverio, corre dunque ai ripari. E ancora la protesta a Cosenza degli allevatori, Oliverio e gli altri VIP mungono le mucche, manifestazione della Coldiretti in difesa del latte. Il presidente della giunta regionale della Calabria impegnato nella mungitura del latte in piazza Cosenza, nel corso della manifestazione organizzata dalla Coldiretti per difendere il latte made in Italy in Calabria, sarebbe possibile triplicare gli addetti del settore. Invece purtroppo, come riportato stamattina, alcune stalle sono state costrette a chiudere i battenti a causa proprio della crisi. E sempre in primo piano si parla del docente di Rossano, trovato morto in Tunisia. Lo vediamo insieme a questo articolo con la foto di Massimo Bevacqua, in primo piano, al fratello negata la vista della Salma. E ancora dalla mezzia terme la cronaca, con l'arresto dell'agente di polizia penitenziaria, un poliziotto, il postino del boss in cella, prima di pentirsi Giampai inviava i pizzini agli affiliati del clan dal carcere di Catanzaro. La responsabilità dell'agente di custodia sarebbero emerse dopo mesi di indagini. E ancora da Cosenza con il caso delle celle frigorifere guaste, ospedale sotto inchiesta. Sempre in primo piano la notizia che arriva da Vibo Valencia risale il fatto a un ventennio fa, ma oggi la Corte d'Appello di Catanzaro ha imposto un risarcimento di 221 mila euro alla famiglia della studentessa suicida a scuola. Dunque la Corte d'Appello di Catanzaro ha condannato il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca per il suicidio di una studentessa avvenuto nel bagno di una scuola di Vibo circa 20 anni fa. Alla famiglia va un risarcimento di 221 mila euro per il mancato controllo della ragazza. E adesso ci spostiamo sulle pagine interne del quotidiano La Provincia di Cosenza. Andiamo a vedere quali sono i principali argomenti riportati. In primo piano vediamo il titolo che riguarda il sindaco Mario Occhiuto, la sai l'ultima su Occhiuto. Il sindaco ha paura e i cosentini si scatenano la sua scorta, ci costa 54 mila euro. Oltre all'inseparabile fuoco l'architetto si circonda di consiglieri fidatissimi. Andiamo a vedere quali sono gli altri fatti riportati stamattina, sabato 7 febbraio. Si parla del chiostro di San Giovanni in Fiore, chiuso, grida ancora vendetta. Il presidente del Centro Internazionale di Studi Gioachimiti, noi san giovannesi, stiamo soffrendo. Succurro, tra l'altro ex sindaco di San Giovanni in Fiore, dichiara che la gente viene a San Giovanni in Fiore per respirare l'aria di Gioachino e resta di sasso. Perché cosa vuole che pensino, dichiara ancora, quando trovano il chiostro chiuso, restano alibiti per la privazione di spazi vitali. E vediamo ancora un'altra notizia che riguarda la politica regionale, riportata sempre sulle pagine della provincia di Cosenza. Tutti pazzi per un posto nel governo Renzi. Ci spera ancora persino Tonino Gentile. Qualche chance per carbone e Magorno. Il premier ci dirà se circolano idee o caciocavalli. Così titola oggi la provincia di Cosenza. Tonino, si riferisce a Tonino Gentile, sta tessendo la sua tela col PD e potrebbe entrare da sottosegretario. Un capolavoro di affari e clientele. Nell'ultimo blitz di Pino Gentile c'è anche Gatto, dopo il contenzioso, la pace a suon di milioni. Mario Oliverio si piegherà ancora al potere dei fratelli, si domanda oggi la provincia di Cosenza. Andiamo avanti, si parla di un altro argomento che riguarda la nave dei veleni, in particolare tutta la verità su quelle maledette navi dei veleni. Oggi il titolo riportato in primo piano sul Cosentino. Oggi si riparla di Laura C, ma è ora di dire basta. Dal 1990 a oggi odore marcio di servizi segreti, magistrati senza dignità e rifiuti tossici a go-go. E poi in basso ci sono tutti i numeri di queste navi affondate nei nostri mari. Nel 1990, il 14 dicembre, quando la Gioli Rosso spiaggia a Campora San Giovanni, non accorrono né carabinieri né vigili né capitanieri di porto. Al loro posto accorre invece la gente a farsi fotografare davanti a una nave che sembrava uscita da un film. Nel 1997 invece, eccolo, lo vediamo, quando finalmente viene ascoltato il cuoco di bordo Ciro 5, si è alla prova che quella nave doveva affondare perché avevano fatto un'assicurazione fasulla per intascare il premio e nessuno si era preoccupato di recintare l'area mettendola in sicurezza. Se Fiordalisi, restiamo sempre sulla notizia, avesse fatto tutti gli interrogatori, avrebbe capito che in quella nave c'era di tutto, ma naturalmente, riporta oggi il quotidiano, non lo fece. Cambiamo argomento. Ci trasferiamo a Cosenza, si parla degli autobus fuori legge, così oggi titola, rende, non è il primo caso. Amaco, arrivano anche i tagli per oltre un milione di euro previsti dalla regione Calabria, Cosenza e Rende si sono sostituite la regione, ma quei bus non hanno, riporta oggi il quotidiano, le carte in regola. Attenti alla scorta di Mario, così la notizia che era anche in apertura di quotidiano, si parla del sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, ricostruiamo la barzelletta più essilarante della città, ci costa 54 mila euro, Occhiuto non si fida e ormai si circonda di un gruppo che lo spalleggia, a dispetto di tutto e di tutti. Dunque, la storia della scorta personale del sindaco è diventata ormai una sorta di barzelletta, riporta oggi il quotidiano, come tante altre nella nostra città, anche se non lo ammette, Mario Occhiuto è uno che ci tiene molto la sua incolumità personale, riporta il giornale. Dunque, questi erano i principali argomenti riportati sulla provincia di Cosenza, andiamo a vedere come ogni sabato, quali sono gli argomenti riportati invece sulle pagine del Vibonese, in apertura le notizie che riguardano le amministrative di Vibo Valencia, per il deputato Brunello Censore, prova di forza e poi ancora sorpresa per la candidatura e poi il ritiro alle primarie di Antonello Fusca. E sempre in primo piano l'editoriale a firma di Pasquale Motta che si occupa delle mareggiate che hanno colpito la Calabria. Quali interventi, quali responsabilità? Dunque, nelle scorse ore, nel corso delle violente mareggiate che hanno sconquassato la costa tiranica centro-nord calabrese, grazie ad un reportage televisivo realizzato proprio dalla C, il cronista ha toccato materialmente con mano quanto grande e capitale sia il lavoro per rimettere in sesso questa nostra bella e dannata terra. Andiamo a sfogliare il settimanale. E' sempre la notizia che riguarda le amministrative. Per il deputato Brunello Censore, prova di forza, Giambolino potrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile per il massimo esponente del Partito Democratico. Dunque, il deputato del PD, Brunello Censore, e il suo collega neoletto consigliere regionale Michele Mirabello hanno preso l'ultima drastica decisione di non sostenere Pietro Giambolino e sponsorizzare a queste primarie del centro-sinistra Antonello Lo Schiavo, un giovane notaio vibonese. Censore Mirabello avevano sperato in un passo indietro di Giambolino che ha deciso di mettersi in gioco spiazzando i suoi compagni di partito, suoi precedenti alleati, così nell'articolo che riguarda appunto le prossime amministrative, in particolare le primarie. E proprio a proposito di primarie, sorpresa per la candidatura e poi per il ritiro alle primarie di Fusca, l'ex assessore ai lavori pubblici della giunta di centro-destra, Alfredo D'Agostino, spiana la strada alla sfida Giambolino Lo Schiavo. Partita la fase pre-elettorale per la scelta del candidato a sindaco del centro-sinistra. E poi ancora andiamo a vedere quali sono gli altri argomenti, in particolare sulle pagine del Vibonese si parla oggi dell'Imu agricola in scadenza nella rubrica a firma dell'Avvocato Iconio Massara. Si parla dunque di fisco e tributi, una telenovela senza fine e contribuenti chiamati a pagare. Ecco tutti i casi di esenzione. E chi dovrà pagare entro il 10 febbraio? E ancora, dall'amministrazione provinciale di Vibo Valencia, che ha avvarato il suo nuovo statuto, il Consiglio lo approva all'unanimità nella riunione dello scorso 4 febbraio. E per quanto riguarda invece la rubrica dei Vibonese celebri, questa settimana è dedicata a Rino Barillari. Lo vediamo nella foto, detto Saverio Barillari, detto Rino, nato all'Imbadi, di professione fotografo, soprannominato The King of Paparazzi. Ebbene, si parla proprio di questo personaggio, di questo Vibonese celebre oggi sulle pagine del settimanale gratuito, il Vibonese. E adesso vediamo altre notizie, in particolare ci soffermiamo sullo sport, vediamo insieme quali sono i principali argomenti sportivi. Ecco, partiamo dal crotone, in emergenza, titola oggi il quotidiano del sud, è un crotone in emergenza, Drago col Bologna, serve concentrazione, cercheremo di metterle in difficoltà, Out, Cordaz, Ferrari, Zampano, Salsano, Concetti, Clayton e Stoian. Spero di avere letto i nomi senza fare errori di accenti. E poi ancora da Cosenza c'è il dubbio, Caccetta, la Lega Pro, dunque a San Vito, arrivano i campani per il centrocampista, si decide stamattina. Roselli contro la Casertana, vietati errori e disattenzioni, voglio aggressività, dice il trainer. E poi ancora da Catanzaro, a Matera senza timori, il tecnico dichiara giocheremo contro una squadra forte, allenata da un grande maestro, Sanderra conferma l'undici, che ha battuto il Melfi in Basilicata, diremo la nostra. Per quanto riguarda invece la Vigor e la Mezzia, battere il Melfi è categorico, seduta a porte chiuse per i Biancoverdi in vista del delicato match contro i Lucani, per Erra un solo dubbio, in difesa, Spirito o Kostadinovic stamattina, rifinitura al Riga. E ancora, per quanto riguarda la Lega Pro, in particolare il titolo riguarda la Regina, ora deciderà il campo, il patron Foti avanti per il bene della squadra, i nuovi ci daranno una mano. Su Insigne si vedrà Magri, Zibart e Benedetti uniti per la salvezza. Un'ultima notizia riguarda la pallavolo, Tonno, obiettivo, finalissima. Vibo affronta Ortona, Forni, siamo fiduciosi in campo, saremo aggressivi. Dunque, volley, Final Four, Coppa Italia, due maschile, Monti, la squadra di Chiara è pronta. Per quanto riguarda la femminile, B1 femminile, Palmesi in casa dell'Arzano, l'obiettivo della Golem è mantenere il primo posto. Bene, questa era l'ultima notizia riportata sul quotidiano del Sud che riguardava appunto lo sport. La rassegna stampa di oggi, sabato, termina qui. Io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo i prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle 14.15 con la prima edizione del telegiornale e poi alle 20, l'edizione serale. Io vi ringrazio. La rassegna stampa della Chi torna domani mattina, puntuale. Alle 7, grazie a tutti voi. L'augurio di una buona giornata. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24. 7 giorni su 7. Sulla Calabria che fa notizia.